Qualcuno mi ha detto che sarebbe stato giusto spararmi alle spalle, più di qualcuno. Quando ho ricevuto queste? Beh, va bene, in questo anno ne ho ricevute tante insulti. Non solo il sindaco Mario Conte, ma anche alcuni rappresentanti della giunta comunale di Treviso sono stati presi di mira dall'invettiva del popolo Novax, No Green Pass. L'assessore all'ambiente è al personale Alessandro Manera, tra le personalità più pubbliche in giunta e che si è sempre speso a sostegno del sindaco in campagna e Provax a tutela della città, oltre ad aver ricevuto nell'ultimo anno insulti sulla sua pagina Facebook, confessa di aver ricevuto aggressioni verbali anche vis-à-vis. Come assessore al supermercato una signora mi ha coperto di insulti perché io sono a favore di tutta una serie di questioni, del Green Pass, dei terrapiattisti, mi hanno fatto tutto un'invettiva. Insulti su Facebook ma anche per strada durante una semplice passeggiata. La materia è complessa, mette Manera in ballo, c'è la libertà di critica, ma non è più possibile oltrepassare un limite, quello del rispetto non solo del ruolo ma anche della persona. Non è possibile continuare a manifestare in questo modo ma senza neppure una base scientifica, cioè parlando del sesso degli angeli non si parla di nulla. E secondo me anche con la pandemia abbiamo superato tanti di questi limiti. Sarebbe curioso, continua Manera, leggere i post di questi leoni da tastiera e vedere che cosa scrivevano quando eravamo in pieno lockdown, quando veramente eravamo privati della nostra libertà. Da assessore al personale Manera ha anche gestito la macchina pubblica in pieno lockdown garantendo che i servizi al cittadino non venissero mai meno. Noi a un certo punto abbiamo dovuto decidere, ho preso io la decisione, chiaramente comunicandolo al sindaco e in accordo con lui, di comprare X computer, quasi un centinaio di computer e per le situazioni di contingenti mettere tutti i smart working. Ma non è un'azienda privata, non esisteva un modello in cui uno stava a casa, rispondeva, lavorava a distanza e quindi è stato veramente complesso.